calo delle nascite record negativo per le marche furti nei garage ritrovate 30 bici rubate il tifo vis accompagna l'ultimo saluto a daniele mei avis donazioni ok dopo le difficoltà della pandemia il segno di cristo in mostra al museo diocesano buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro consueto spazio informativo serale di rossini news telegiornale di martedì 18 aprile che apriamo occupandoci di una tematica sociale qual è quella del calo delle nascite infatti il 2022 che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata un'annata da record assolutamente negativa per quello che riguarda la nostra regione come dimostriamo in questo servizio nel 2021 nelle marche ci sono stati 9.222 nuovi nati mentre nel 2022 siamo scesi a 8.779 il valore più basso mai registrato nella nostra regione sono questi i dati stati evidenziati dal forum delle associazioni familiari delle marche una situazione drammatica della denatalità nella nostra regione abbia tal fatto che le marche rappresentano uno dei territori dall'invecchiamento migliore tutte e cinque le province marchigiane hanno registrato cali a pesaro urbino si è passati da 2.182 a 2.122 nati in un anno in un calo che parte da lontano nel 2010 nella regione marche sono nati circa 16.000 bambini nel 2022 sono nati 8.300 bambini quindi la metà di meno e questo praticamente ci dovrebbe far pensare ad una riorganizzazione di quelli che sono un po' i punti nascita in quanto quella che è la legge Balduzzi che prevede punti nascita aperti al di sopra dei 500 nati praticamente dovrebbe mettere in mano ai politici una riorganizzazione di questo lavoro di questa organizzazione appunto dei punti nascita oggi bisogna lavorare in sicurezza e la professionalità dei medici migliora quando ci sono dei numeri importanti nel luogo dove si lavora c'è anche un altro problema noi dobbiamo anche incentivare quelle che sono praticamente le politiche e questo è un monito che faccio anche ai politici della regione di fare delle leggi per incentivare quella che è la politica della famiglia dove praticamente oggi fare figli dovrebbe essere una ricchezza per le famiglie dove praticamente i politici dovrebbero dare e io faccio un po' di polemica invece che dare degli assegni per redditi di cittadinanza dovrebbero dare degli assegni corposi a quelle donne che partoriscono più figli perché questo praticamente garantirebbe un futuro alla società perché fra vent'anni se noi andiamo avanti con questi numeri non ci sarà più una continuità della società e passiamo alla cronaca per occuparci di una importante operazione della questura di Pesaro Urbino che attraverso l'azione delle squadre mobili ha recuperato 30 bici e altri oggetti che erano stati rubati da alcuni garage del nostro territorio il servizio le squadre mobili della polizia di Pesaro e di Forlì nel pomeriggio di lunedì hanno stretto il cerchio in merito ad una serie di furti avvenuti all'interno di garage condominali tra cui quelli di strada Borgeria a Pesaro nell'ultimo mese gli agenti hanno perquisito alcuni immobili situati a Fano, Gradara e Forlì ritrovando una trentina di biciclette rubate tutte le proprietà intercettate che contenevano il bottino erano intestate ad un trentenne pregiudicato di origini albanesi che sotto falso nome spacciandosi per un inesistente medico dell'ospedale Bufalini di Forlì vendeva online quanto rubato oltre a diverse biciclette sono stati ritrovati anche due monopattini elettrici e altri oggetti come un casco griffato Valentino Rossi alcune vittime del furto subito riconoscendo in rete il proprio mezzo hanno immediatamente comunicato la segnalazione alle forze dell'ordine che si sono messe sulle tracce del malvivente a seguito di una tempestiva indagine svolta tra gli uffici investigativi di Pesaro e Forlì il destinatario della perquisizione si ritrovava attualmente indagato per il reato di ricettazione dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro per agevolare il riconoscimento e la restituzione di quanto ritrovato le questure di Pesaro e Forlì pubblicheranno nelle prossime ore sulle proprie pagine Facebook il materiale sequestrato e vi segnaliamo che a Pesaro così come in altre città italiane in questi giorni sono circolati volantini affissi sulle abitazioni e intestati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel comunicato affisso si invitano i residenti a lasciare le proprie case per dei finti controlli di polizia così da favorire i truffatori per entrare e rubare soldi e preziosi è stata infatti la stessa questura a rimarcare che si tratta di un raggiro invitando a segnalare e informare soprattutto la popolazione anziana per metterla in guardia e proprio il questore di Pesaro Raffaele Clemente ha attivato a partire da ieri il protocollo Zeus che era già operativo in 30 province italiane si tratta di un deterrente che consente al questore di intervenire nei casi di violenza domestica e di atti persecutori al questore si dà infatti lo strumento amministrativo dell'ammonimento ovvero una sorta di cartellino giallo per stalking che consente di intervenire preventivamente sul soggetto maltrattante evidenziando nel disvalore della sua condotta prima che si arrivi al procedimento penale Cambiamo argomento con mozione questa mattina alla chiesa pesarese di Cristo Risorto dove il tifo della Vispesor si è raccolto per l'ultimo saluto a Daniele Mei fondatore degli Ultras Biancorossi Onore a te Daniele Mei, Ultras d'altri tempi Buon viaggio vecchio Ultras Onore eterno a chi ci ha reso fratelli L'ultimo saluto a Daniele Mei è un commosso tributo del tifo della Vispesoro accompagnato da cori, striscioni e applausi rivolti ad uno dei principali padri fondatori del movimento Ultras pesarese quando sul finire degli anni 70 sugli spalti del Benelli si moltiplicavano bandiere, tamburi e striscioni e Daniele unì e guidò i diversi quartieri e le diverse generazioni sotto un unico vessillo quello degli Ultras Vispois e anche il coro Vispois accantonato da anni questa mattina è tornato a risuonare nel piazzale della chiesa di Cristo Risorto all'uscita del ferretro di Daniele venuto a mancare venerdì all'età di 60 anni gli ultimi dei quali trascorse a combattere strenuamente una battaglia impari con una patologia infame come la SLA una malattia che aveva fomentato la solidarietà del tifo vissino nel partecipare generosamente ad una raccolta fondi per affrontare onerose cure sperimentali in Russia ultimi anni di sofferenza per un uomo che ha trascorso l'esistenza ad alleviare i dolori altrui nella sua lunga carriera da infermiere all'ospedale San Salvatore per il tifo della Vispesero è un altro petalo che si stacca dalla rosa delle anime biancorosse cadute negli ultimi anni tifo Vis che questa mattina era presente in ogni sua declinazione di questi ultimi quattro decenni compresa quella dei gemellati pistoiesi dolore, commozioni e applausi per un amico, un compagno e un faro del tifo che non sarà mai dimenticato giornata di bilanci per l'Avis di Pesaro e Urbino che oggi in provincia ha fatto il punto sull'andamento delle donazioni di sangue e ha presentato anche il direttivo 2023-2027 in cui viene confermato presidente Erman Graziano che ascoltiamo in questa intervista Siamo a questo secondo mandato, una bella squadra che in parte si rinnova, in parte si conferma importante la mission della nostra associazione che vede implementarsi su quelli che sono degli obiettivi che già nel precedente mandato volevamo portare avanti con grande convinzione e che visti i risultati raggiunti proprio anche alla luce della pandemia, alla luce di quella che è la riforma del terzo settore che ci ha visto sicuramente molto impegnati a ogni livello In tutto questo i dati provinciali hanno complessivamente tenuto perché rispetto all'anno scorso c'è giusto qualche decina di donazioni in meno quindi siamo contenti che il sistema ha tenuto ma il sistema ha tenuto perché c'è un forte attaccamento, un forte rapporto tra le avis del territorio e i nostri consigli direttivi, i nostri soci e così via Pesaro invece ha avuto una flessione con 7.063 sacche mentre Fano ha raggiunto 8.174 donazioni Importante sarà il ruolo che riusciremo in qualche maniera a raccogliere con Pesaro 2024 cercando di insomma poter entrare il più possibile dentro quelli che sono gli aspetti relativi alla cultura del dono ma l'aspetto importante è che gli obiettivi di questo provinciale siano comunque quello di accrescere la cooperazione interassociativa e aumentare la sensibilità verso il volontariato chiaramente soprattutto per la donazione di sangue e per tutto ciò che la donazione di sangue si vede coinvolta quindi da quella che è la donazione degli organi, da quella che è la donazione di midollo osseo da quelle che sono le associazioni che chiaramente assistono anche a seguito di tumori e non solo abbiamo sviluppato e continueremo grazie anche a quella che è la sinergia con l'Università di Urbino e in particolare con Giovanni Alvarez che è il nostro nuovo segretario col quale abbiamo attivato e rinnovato dei progetti con l'Università per coinvolgere sempre di più gli studenti con dei seminari da due crediti e far sì che il coinvolgimento sia massimo non solo nella nostra provincia ma con tutte le persone che possono effettivamente dare un contributo fattivo già dai giovani, già dai giovani che studiano e possono mettere non solo i loro talenti ma anche le loro conoscenze al seguito dei nostri progetti Sta facendo il giro dei social l'immagine delle telo, delle impalcature, della facciata dell'ex intendenza di finanza dove compare un palese errore grammaticale con l'espressione efficientamento energetico senza la I di efficientamento una foto che ha prodotto diversi commenti social più o meno ironici sulla nota stonata nella piazza della futura capitale della cultura I giovani agricoltori della provincia di Pesorurbino scelgono la continuità ed eleggono nuovamente Arianna Bottin come delegata di Coldiretti Giovani Impresa Provinciale La Bottin, 25 anni di San Lorenzo in campo, era subentrata nel 2020 al dimissionario Luca Tenti Ad applaudire la sua nomina anche il parlamentare Mirko Carloni presidente della Commissione Agricoltura della Camera e i vertici provinciali Coldiretti Tommaso Di Sante e Claudio Calevi Per la prima volta i comprensori delle montagne e delle Marche hanno deciso di iniziare a lavorare insieme strutturando un nuovo progetto speciale di promozione turistica attraverso Marche Outdoor Oggi il progetto è stato presentato nella Camera di Commercio delle Marche a Dancona con i rappresentanti dei comprensori del Monte Catria, Monte Nerone, Bolognola Schie Frontignano e Sarnano Sottotetto Si sta dunque lavorando per un brand e per azioni di promozione condivise E continua a mettere successi il giovane pesarese Alessandro Ricci che fra gli 80 partecipanti al campionato italiano di risoluzione di cubo di Rubik tenutosi a Cavarzere in provincia di Venezia ha stabilito il nuovo record italiano di realizzazione del cubo di Rubik speciale Square One risolvendolo in appena 4 secondi Un record che si posiziona anche al secondo posto a livello mondiale Nella manifestazione Ricci ha ottenuto anche il terzo posto nazionale nella risoluzione delle 3x3x3 cube in 9,08 secondi Ed un altro pesarese che si fa onore a livello mondiale è sicuramente il campione di kickboxing Jordan Valdinocci che a distanza di due anni dal primo ha ricevuto oggi il suo secondo plauso della città di Pesaro dal sindaco Ricci e dall'assessore allo sport Bila della Dora Lo scorso 25 marzo nella città di Campione d'Italia Valdinocci si è infatti laureato campione del mondo di kickboxing ISCA Ed ora ci occupiamo di cultura e di mostra andando a scoprire l'esposizione Il Segno di Cristo appena inaugurata al Museo Diocesano di Pesaro Fino al 15 di luglio il Museo Diocesano di Pesaro in Via Rossini ospita la mostra Il Segno di Cristo La vita e la passione nelle incisioni di antichi maestri da Dürer a Rembrandt Un percorso espositivo di 30 opere che arrivano al Museo Pesarese grazie al generoso contributo di collezionisti privati che hanno aderito a questa iniziativa mettendo a disposizione del pubblico pesarese i preziosi fogli 30 incisioni di maestri antichi si va dal 400 al 600 con nomi quali Albert Dürer, Andrea Mantegna, Rembrandt e tanti altri un percorso, una narrazione attraverso queste opere che segue un po' la vita di Cristo quindi iniziando dall'annuncio e dall'infanzia fino ad arrivare al momento centrale della passione, la morte e la resurrezione è una mostra che abbiamo organizzato in collaborazione con Luigi Benelli che è uno dei prestatori di queste opere insieme ad altri e abbiamo pensato una sorta di percorso che non sia solamente tecnico ma anche un supporto dal punto di vista delle fonti testuali quindi con le indicazioni e la narrazione dei Vangeli che accompagnano le opere esposte nella nostra mostra La mostra è visitabile il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 con aperture mattutine nella terza domenica del mese un percorso consultabile anche nei pomeriggi festivi del 25 aprile e primo maggio visite pomeridiane che fra giugno e luglio saranno ampliate dal giovedì fino alla domenica La mostra si intitola Il segno di Cristo che è un gioco di parole fra appunto il segno grafico che è il segno gestuale che l'incisore realizza appunto sulla matrice sulla lastra di rame o di legno perché appunto parliamo di multipli derivati da una matrice e Il segno di Cristo che è appunto il tema iconografico della mostra un percorso che si snoda in due secoli e che va a toccare i più grandi artisti della storia dell'incisione ma anche della storia dell'arte perché pensiamo a nomi come Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Rembrandt, Carracci e quindi si snoda in questo percorso fino ad arrivare al tema della resurrezione che è un po' l'emblema finale di questa tematica Il nucleo di opere proviene da collezionisti privati che hanno messo a disposizione appunto le loro incisioni ma sono opere che essendo multipli possiamo trovare anche nei più importanti musei e nei gabinetti delle stampe di tutta Italia e di tutta Europa E con la notizia di questa mostra concludiamo il nostro telegiornale di questa sera ma prima di salutarci come di consueto vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata di questo martedì dedicata ai colori e ai profumi della primavera che vi vengono proposti dal Garden Center Florio di Pesero appuntamento questa sera alle 21.20 A seguire alle 21.40 andremo a rivivere quanto accaduto questo weekend a Villa Caprile dove si è tenuta la sesta edizione di Pesero Wine Festival 2023 E poi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domattina alle 7.20 come sempre in diretta, come sempre dal lunedì al sabato L'appuntamento è quello con Buongiorno Rossini con la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali Ma andiamo anche a dare uno sguardo alla prima serata di domani, mercoledì 19 aprile quando alle 21.20 vi proporremo la seconda puntata di Amministrando nostro nuovo format dedicato all'azione appunto amministrativa di comuni, provincia in questo caso della regione perché avremo ospite il consigliere regionale Nicola Baiocchi Ed è davvero tutto per questa edizione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi